eccellenze illustri signore e signori cari amici questa è la seconda occasione nella quale ho l'onore di intervenire al congresso internazionale dei russofili ringrazio a voi tutti e gli organizzatori di questo evento per avervi invitato a tenere questa riflessione che segue di poche settimane la storica intervista che il presidente Vladimir Vladimirovich Putin ha concesso a giornalista statunitense Tucker Carlson. La reazione dei media mainstream occidentali dimostra quanto la verità faccia paura in un mondo che vive di menzogna e si regge sulla falsità. Tutti voi qui convenuti avete ben chiara la minaccia che incombe sul mondo occidentale e sull'intera umanità anzitutto la minaccia di una terza guerra mondiale sotto le cui macerie seppellire decenni crimini e frodi commessi da un'elite sempre più potente e tirannica. In secondo luogo la minaccia dello sterminio di parte dell'umanità tramite l'agenda 2030. In terzo luogo la minaccia quanto mai concreta e terribile dell'instaurazione di un governo mondiale di stampo totalitario nel quale i popoli superstiti siano ridotti in schiavitù. La progressiva cancellazione delle sovranità nazionali e il loro assorbimento in organismi sovranazionali hanno come scopo dichiarato l'instaurazione del nuovo ordine mondiale. I leader del World Economic Forum con tutte le sue ramificazioni ufficiali e ufficiose non fanno mistero di aver occupato i vertici delle istituzioni tramite governi fantoccio e con la cooperazione servile dei media di regime. I popoli dell'Occidente hanno ormai compreso di essere governati da servi dell'elite globalista e che il cosiddetto sistema democratico è una grottesca finzione ad iniziare dalla manipolazione delle elezioni. Le continue false emergenze sanitaria bellica climatica ed energetica le crisi che dovrebbero giustificare l'agenda 2030 non sono però ciò che unisce i membri dell'elite e molti iniziano a rendersene conto. Ciò che muove queste persone è la loro appartenenza ad un colto satanico. Ma chi vuole far regnare Satana deve prima bandire Dio con il pretesto della laicità dello Stato. Regnare Christum Nolumus. Il mondo occidentale si è ridotto ad una cloaca, ad un mattatoio, ad un enorme campo di battaglia, nel quale l'elite controlla le masse, le impoverisce, le scrutta, le umilia, le schiavizza, le manda al macello. Avendo escluso Dio dalla vita pubblica, l'autorità non deve obbedire a nessun principio trascendente e può dunque votarsi come si sta mutando in dittatura. Il suo potere diviene illimitato e lo Stato, privatizzato nelle mani di eversori criminali, si sostituisce a Dio. Possiamo credere che gli autori di questo golpe si rassegnino a cedere il potere proprio quando manca poco all'instaurazione di questo nuovo ordine? Proprio quando l'elite è riuscita a imporre la sistematica cancellazione dei diritti fondamentali, la salute, la proprietà, la libertà di impresa, la libertà di parole e di educazione, la libertà di muoversi e viaggiare, a un'umanità terrorizzata da continue emergenze create a tavolino, da prospettive di catastrofi inventate, dalla minaccia di guerre e invasioni. Siamo tutti consapevoli che è in atto un risveglio dei popoli. Lo dimostrano le manifestazioni degli agricoltori e degli allevatori che si allargono macchia d'olio e quelli dei cittadini di tante nazioni esasperati dalla sostituzione etnica, con tutte le conseguenze che conosciamo in termini di sicurezza, criminalità e convivenza. Sostituzione etnica imposta da folli politiche immigrazioniste, colpevolmente supportate da organizzazioni sedicenti umanitarie. Ma questo risveglio, se non troverà una risposta seria e responsabile nell'alveo del diritto, sfocerà inevitabilmente in guerra civile, dando il pretesto ai governi servi del World Economic Forum di intervenire militarmente. Sono due settimane fa l'Assemblea nazionale francese ha varato una legge sulle derive settarie che prevede forti ammende la reclusione per chi esprime dissenso. La censura di Stato o da parte di organizzi sovranazionali è già in atto e andrà aumentando esponenzialmente, così come il controllo delle masse. Gli scandali della frode elettorale alle presidenziali americane del 2020. L'evidenza di un criminale piano di sterminio e sterilizzazione di massa, mediante l'imposizione di una terapia genica sperimentale presentata come vaccinazione di massa. La volontà di forzare il passaggio alla valuta digitale, per controllare come possiamo o non possiamo spendere i nostri soldi, sono tutti segnali allarmanti ai quali si aggiunge la minaccia di una guerra nucleare. L'elite è disposta a tutto pur di conservare il potere e di nascondere i propri crimini. In cosa dunque può consistere un'azione di resistenza e di opposizione, tale da coinvolgere quest'onda montante di dissenso, evitando che possa venire strumentalizzata o dispersa? Vorrei qui esporre la mia visione, che spero possa costituire un'occasione di confronto. La rivoluzione ha fallito. Così come ha dimostrato di aver fallito l'ideologia laicista e anticristiana dell'Occidente post-rivoluzionario, liberale e massonico. La Russia ha vissuto questo crollo prima di noi, riappropriandosi della sua fede, delle sue tradizioni, della sua cultura, che il totalitarismo aveva combattuto e cercato di cancellare. Esattamente come la dittatura, Wok combatte e cerca di cancellare la nostra identità, la nostra fede, la nostra civiltà cristiana e addirittura i principi sacri e universali della legge naturale. Tutti siamo concordi che i danni causati da una società che si rifiuta di riconoscere Dio sono sotto i nostri occhi. Dobbiamo quindi avere non solo l'umiltà, non solo il coraggio, ma anche e soprattutto la fierezza di professare la nostra fede, di volere che non solo il singolo, ma anche lo Stato riconosca e onori nostro Signore Gesù Cristo come Dio, Signore e Re e che a Lui conformi le proprie leggi. Nel 1874 il grande statista Gabriel Garcia Moreno consacrò la Repubblica dell'Equador a Nostro Signore, prima di essere ucciso dai sicari della masoneria. Il suo motto era libertà per tutto e per tutti, tranne che per il male e i malfattori. Come non essere d'accordo? Dobbiamo riconoscere la Signoria di Cristo e arrendersi alla sua legge, affidare a Lui la nostra patria e la nazione, noi stessi e le nostre famiglie. Chi tra i quanti si onorano del nome cristiano non condividerebbe queste parole? Non verremmo forse rispettati anche da chi professa un'altra religione, avendo ritrovato la comune base di principi condivisi come il rispetto della vita, della famiglia naturale, il diritto per i deboli e il rispetto per i deboli e gli anziani. Penso che questo potrebbe costituire davvero, e direi quasi provocatoriamente, il great reset che tutti aspettiamo e che costituisce un ritorno al Signore di tutti noi, delle nostre famiglie, delle comunità, delle amministrazioni pubbliche. Dovremmo tornare ad essere orgogliosi di poterci professare i cristiani. Dobbiamo tornare a chiamare bene il bene e male il male, e non sentirci inferiori dinanzi all'arroganza del vizio, al cinismo della corruzione, a non lasciarci intimidire dall'apparente irreversibilità del mare. Dobbiamo restituire ai popoli occidentali quella speranza che le è stata strappata per soggiogarli e dobbiamo delaicizzare la società e ricondurla nell'alvio di quell'ordine divino che si fonda in Cristo, uomo Dio, unico Salvatore del genere umano, e che solo in Cristo può trovare la pace. La pace di Cristo, che è pace vera, perché è fondata sulla verità e sulla giustizia? Può essere conseguita solo dove è Cristo regnale. Pax Christi in Regno Christi. Quella è l'unica cosa che la chimera globalista non può offrirci, per la quale non ha un surrogato da sostituirvi. L'eroismo di un ideale, la nobiltà di uno scopo per il quale valga la pena combattere e anche morire. E quest'ideale non può che consistere nella fede in Cristo Signore, nell'amore per lui e per il prossimo, nel desiderio di dare alla nostra patria e ai nostri figli un futuro in cui gli orrori del globalismo siano un brutto ricordo. Gli avversori criminali di Davos non hanno nessun ideale da offrire, perché basano il proprio successo sulla paura e perché ottengono obbedienza dei loro servi con la corruzione e il ricatto. All'ideologia di morte del nuovo ordine mondiale dobbiamo opporre il Vangelo, la parola del Verbo Eterno, di colui che si è detto via verità e vita. Se affrontiamo il comune nemico sul campo in cui è più forte, siamo destinati a soccommere. Dimentichiamo troppo spesso che Dio è veramente onnipotente e che nulla possono i Suoi e i nostri nemici contro di Lui. Egli aspetta che l'umanità torni a Lui e che si lasci salvare quando tutto sembra perduto. Questa è l'unica possibile via di uscita dalla distopia presente. Perché qualsiasi cosa accada, sia che gli autori del golpe siano sconfitti, sia che conservino con la forza il loro potere tirannico, la consapevolezza della battaglia spirituale in corso orienterà e darà uno slancio soprannaturale alla nostra posizione, la renderà meritoria e non potrà non giungere al cospetto della maestà divina. Domine, salvanos perigmus. Nella tempesta che infuglia il Signore sembra dormire, mentre attende che lo invochiamo e che lo riconosciamo capace di placare le onde e vietare i venti. Rifondiamo gli stati sulla roccia sulla pietra angolare che è Cristo Signore. Restituiamo a Gesù Cristo la corona che la rivoluzione gli ha strappato. Scogliamo da noi il gioco infernale del globalismo, l'adesione a organismi sovranazionali pensati per cancellare la nostra fede, la nostra identità, la nostra civiltà. Mettiamo gli eversori criminali davanti alla loro responsabilità ad iniziare ad aver provocato un sanguinoso conflitto che ha sterminato un'intera generazione in Ucraina, usandola per aggredire la Russia, per svenderla alle multinazionali e per far crollare economicamente l'Europa. Affrontiamo l'elite non tanto contestando le menzoni delle crisi e delle emergenze, ma piuttosto opponendo alla loro visione di morte la speranza che si fonda su Cristo e sul fare la sua volontà. Fiat voluntas tua, diciamo nel Padre nostro. Facciamo la volontà di Dio, unica possibile risposta della creatura al creatore, e unica premessa per vincere con Lui questo scontro epocale. Ce l'ha ricordato anche Tucker Carlson in una recente intervista rilasciata a Dubai, quando ha indicato i due schieramenti opposti, costituiti da chi riconosce e serve Dio e da chi vuol farsi Dio al posto di Dio e contro di Lui, a chi serve la vita e chi promuove la morte, da chi segue la verità e da chi è servo della menzogna e della frode. I popoli sono assettati di bene. Non ne possono più di falsità e inganni, di perversioni e violenza. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, dice San Paolo. Vinciamo il male con il bene e la menzogna con la verità, la superbia con l'umiltà, la corruzione con l'onestà, l'egoismo con la carità generosa. Portiamo la luce nelle tenebre, la luce vera che illumina ogni uomo, perché le tenebre in cui si nascondono questi criminali avversori siano squarciate e appaia l'orrore dei loro crimini esigrandi e con essi la loro condanna. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io ve la do. A conclusione di questa riflessione, vorrei lanciare un appello a tutti gli uomini di buona volontà, perché le nazioni siano consacrate al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, Madre di Dio, quale premessa per implorare dal cielo quella pace che solo il nostro Re Signore può dare e che mai, come in questo momento, è invocata da genere umano, su questo mondo ostaggio di forze infernali. Faccio questo appello al Patriarca di Mosca, ai prelati della Chiesa Ortodossa, ai Cardinali e ai Vescovi Cattolici che non hanno ceduto al compromesso e a tutti coloro che si riconoscono nei principi universali e sacri della legge naturale. Su tutti voi e su quanti condividono la nostra battaglia spirituale, imploro copiose benedizioni celesti per intercessione della gloriosa Theotodquus, la Vergine Madre di Dio. Salvati los che si riconosce Grazie a tutti.